Di Piero Giunta, AC Catena Calcio 1973, ASD Virtus Ispica 2-3. Questo è il risultato finale che ha decretato il cosiddetto terreno di gioco nei 90 minuti del recupero della 19esima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Dunque possiamo dire Virtus Ispica Corsara in quella di AC Catena. Tre punti fondamentali conquistati in trasferta che rilanciano la squadra di mister Peppe Trigilia. I gol Virtusini portano alla firma di Damonte e di Tomasco Doppietta. A fine partita abbiamo sentito le sensazioni di un soddisfatto mister Peppe Trigilia. Ascoltiamo. Allora Peppe, una vittoria in trasferta contro la C Catena Calcio per 3-2 cercata e meritata. Era una partita combattuta, una partita che vinciamo meritatamente a mio avviso, giocata su un campo disastroso. Un manto che impediva di giocare e per questo abbiamo avuto diverse difficoltà, soprattutto nella prima frazione di gioco. Poi abbiamo preso un po' le misure, i ragazzi hanno messo dentro più cattive regonistica. Portiamo a casa l'intera posta in palio, un risultato molto importante che ci rilancia in classifica e che probabilmente attribuisce il giusto merito a quello che si sta facendo, al grandissimo lavoro che si sta facendo. Ed ora c'è da preparare il derby contro il Ragusa. Abbiamo adesso dieci giorni per prepararci per andare a giocare a Ragusa contro la capolista. Sono certo che anche lì faremo bene. La squadra è in continua crescita, c'è un'evoluzione evidente, anche sotto il profilo numerico. Per cui sono molto soddisfatto dei ragazzi e di quello che hanno messo in campo. Questi ragazzi virtustini che hanno indossato e onorato la mitica maglia giallorossa a strisce verticali. Bernat, Damonte, Lavaccara, Coria, Centani, Giglio, Sturniolo, Tior, Tomasco, De Angelis, Santuccio. In panchina, Vindigni, Fernandez, Vaccaro, Said, Migliore, Blandino.